Mi occupo di economia della cultura e il progetto di ricerca che sto portando avanti mira a misurare la relazione che esiste tra accumulazione di capitale culturale, preferenze individuali, plasticità del modello mentale e in ultima analisi cambiamento del comportamento individuale. Noi cerchiamo quindi di micro fondare le scelte degli individui e le azioni che contraddistinguono i loro comportamenti su una base culturale. La parte più divertente a mio avviso di questo approccio è quello che riguarda l'ancoraggio teorico. Di fatto per portare avanti queste ipotesi di ricerca e verificarle e corroborarle empiricamente noi sosteniamo un ancoraggio transdisciplinare, cioè partendo dai recenti approcci delle neuroscienze, della neuroesthetics, per arrivare all'economia del comportamento attraverso appunto l'economia della cultura. In ultima analisi la ricerca, la domanda di ricerca che noi cerchiamo di sostenere è proprio questa. Può la cultura diventare un driver del cambiamento del comportamento individuale.